Ti ha c'è incredibile ma vero bentornati oggi si gioca minecraft e chi l'avrebbe mai detto che questo canale avrebbe avuto un tracollo del genere aspettate che avete peli di cane dappertutto eccoci qua allora mi sono dato dei compiti degli obiettivi più che altro quindi stasera cosa facciamo continuiamo a costruire la nostra base e dopo quindi la nostra nostro buco nel terreno e successivamente dopo che ci siamo fatti una piccola farm che in realtà ho già fatto ma acqua in bocca iniziamo ad esplorare quelle che sono le caverne sperando di riuscire ad acimolare abbastanza materiale per uccidere la bestialità che si aggira in queste caverne cavernose e vuole uccidersi ossia il cave dweller detto anche il mostro quello che urla e che ci fa paura quindi si fa bestiasse preparatevi perché stasera si parte in hard mode e si gioca duro perché quando i duri iniziano a giocare niente si sta giocando come classico zoonomali lo faremo ragazzi un'altra volta perché perché volevo rilassarmi e minecraft horror mi rilassa eh lo so pensate mi conoscete ormai come colui che si diverte con i giochi horror ma non conoscete qualche dettaglio più diciamo strano di me ad esempio appunto che la paura mi calma o che per addormentarti ascolto addormentarmi ascolto una compilation di un'ora di pianti di donne non so per quale motivo ma mi rilassa e mi fa dormire eh manco gli asmadr assolutamente assolutamente niente niente a quei livelli riesce a calmarmi e quindi sostanzialmente questo è quello che faccio ciao Dino sono quello di tiktok chi mi avevi iscritto aspetta ah sì ah ciao bestiasse grazie mille seguitelo su chicken choc lui ci fa eh Giancarlo ci fa i i i come si chiama i montaggini bravo bravo mi hai fatto morire da ridere grazie grazie mille ancora eh pianti di donne sì sì pianti di donne eh beh eh come devo eh i generi pianti di donne pianti di donne non mi va al momento Dax invergognati vergognati però vabbè eh se non vuoi sostenere il canale chi meglio del moderatore per non sostenere un canale voglio dire mi rilassano esatto mi rilassano ragazzi ma che cazzo volete ma se son fatto così son fatto così no eh non ho tiktok che famo Garold per l'amor del cielo non è vero che non hai tiktok Allora bestiasse adesso io direi di partire con le news settimanali anzi giornaliere più che altro perché c'è un po' da dire dato che sono successe un po' di cose cose che non mi aggradano del nostro tanto amato mondo videoludico e vorrei essere un pochino più serio quindi partiamo con la sigla e via Gli inglesi ci dicono che se mangiamo un uovo di cioccolato intero stiamo male incredibile ma vero questa è la grande ricerca che è stata fatta dal centro medico britannico e quindi adesso che fai? Prendi e porti a casa Fatto sta che me lo dovevano dire prima quando ho iniziato dal momento in cui i supermercati hanno iniziato a mettere le uova di Pasqua in vendita a mangiarne uno al giorno perciò forse era meglio dirmelo prima eh io questa cosa non la sapevo certo ci sarebbe il buon senso ma questa cosa direi che non fa parte dell'essere umano ma quando mai? Ma infatti ma infatti tra l'altro siamo sinceri Se ti becchi un uovo di Pasqua della Lindel lo inizi e lo finisci cioè non prendiamoci per il culo ora che lo spacchi ora che nel mentre che sei lì che costruisci la sorpresina che poi ormai sorpresina che ormai costruisci li finisci cioè voglio dire è abbastanza naturale direi però non abbiate paura perché nel mentre vi potete consolare con un film che parla di depressione mentale su youtube gratuito riguardante Spiderman Spiderman è uscito Spiderman The Spider Within short film is now live on youtube quindi se volete potete beccarlo su youtube che state aspettando chiudete questa cazzo di live di disinformazione e buttatevi in questo piccolo cortometraggio che vedi nei panni del nostro Miles Morales nei panni di un depresso non state aspettando altro vero? Ebbene io non l'ho visto non credo che lo farò perché sinceramente non ho voglia però sappiate che c'è sempre un sorriso un sorriso a quelle persone che fanno un passo evolutivo Questo passo evolutivo è stato fatto dal primo umano che insomma per la sua situazione particolare l'hanno costretto ad applicarsi al Neuralink che cos'è Neuralink? Neuralink sarebbe la nuova invenzione di Elon Musk che prevede l'utilizzo del cervello per controllare tutto ciò che è elettronico Ci hanno ficcato dentro questo chip all'interno di quest'uomo che ormai quest'uomo non è più un uomo è un cyborg lo possiamo anche dire tutti quanti e la prima cosa che ha fatto è stata giocare tutta quanta notte a Civilization 6 E questo è quello che voleva fare insomma in sostanza il futuro della specie umana collegata alla tecnologia che ormai fa parte di noi è questo È questo incredibile incredibile Civilization per fare cosa? Ha giocato tutta la... com'è per fare cosa? Adesso io ti spiego qual è il futuro il futuro è che tu hai un microchip dietro al tuo orecchio destro e che fai così e accendi la televisione Ste cazzo di zanzare Il futuro è che tu hai un microchip dietro al tuo orecchio destro e se ti citofano non ti devi più alzare Basta che fai così e la porta si apre Ok? Ok? Il futuro è che se hai freddo in casa e hai un microchip dietro l'orecchio basta che fai così e magicamente la casa si scalda da sola Se salta la luce è un puttanaio però fatto sta che tu vivi nel futuro grazie a Neuralink Che è un microchip posizionato dietro l'orecchio destro che permette di unire le macchine all'uomo Le metti insieme e cosa viene fuori? Un inutile miscuglio di minchiate Sera discepoli, salve salve discepoli mi sembra un po' esagerato Poi se uno ha un tic a quel punto lì non fa altro che fare zapping sulla televisione Ci sono quelle persone con i tic? Allora i tic, fermi, quello che sto per dire potrebbe essere strano Potrebbe essere magari per alcuni un po' borderline ma i tic mi fanno ridere L'ho detto, allora adesso, no, no, allora non posso dire il nome ma questo bambino di nome Riccardo che conoscevo da quando era piccolo Aveva un tic particolare, si tirava un calcio in culo da solo ogni tre passi, faceva tre passi e pum, si tirava un calcio in culo da solo No, non è la turetta, la turetta è un'altra roba Ed era qualcosa di esilarante Ed era qualcosa di esilarante Lui non aveva alcun dolore, non si faceva male Però era il suo tic, tutti lo conoscevano come il salto in culo Ma sono sempre tic E che c'entra? Vabbè Comunque in sostanza No, il nome non si può sapere ragazzi, non ve l'ho mai detto Comunque Riccardo sta bene, l'importante è questo Credo che il tic gli sia andato via, una certa, spero Non lo so, sicuramente la linea del buco del culo non gli esiste più Però vabbè Dino come si fa ad entrare anche su Discord? Non puoi Allora, altra notizia, altra notizia che vi sconvolgerà Vi ricordate che io l'ho detto che la Marvel avrebbe annunciato un nuovo gioco Un nuovo gioco che avrebbe rivoluzionato il mondo del gaming Più che altro del gay, unito al Ming Ecco, questo gioco è Marvel's Rivals Un gioco che si basa sui team Un gioco free to play Che uscirà su PC Dove possiamo interpretare o i buoni o i cattivi E dobbiamo menarci le mani Detta così sembra qualcosa di spettacolare Ma quando poi vi faccio vedere il trailer Scoprite che alla fin fine si tratta di Overwatch Pronto? Netcase Games C'è, capisci? Guarda! Guarda! Lo vedi? È Overwatch È Overwatch È Overwatch È Overwatch È Overwatch Iron Man ha veramente detto It's Nanotime È tempo di nani L'ha detto ragazzi Questa è... È come vogliono pubblicizzare il nuovo Iron Man Ormai è deceduto ma in questo concetto marvelliano no Quindi sostanzialmente tu interpreti uno dei cattivoni o dei simpatici ragazzi supereroi con i superpoteri Che non so, Spider-Man se ti va di spruzzare la gente E devi vincere in questa sorta di 6 vs 6 PVE Che schifo Che schifo Che fa cagare cosa? No fermi Non lo sai ma non sai neanche di che sto parlando È questa qui Sandland Che si becca 9 da IGN Nuovo gioco Skyfi Ovviamente Commedia Che si basa su quello che era Un vecchio Una vecchia storia di Non ne ho idea Sono un ignorante completo in ste puttanate Fatto sta che come potete vedere dai disegni buffi Rimaniamo sempre sullo stesso calco Stiamo parlando Non c'è un ragazzo scimmia Ma c'è un ragazzo rosa scimmia Bene o male è la stessa roba Quindi Sono curioso di provarlo Vorrei vedere com'è Perché mi ispira Cazzo se sei preso 9 Voglio dire Devrebbe essere qualcosa di figo Tue opinioni Sì sì Infatti io non sto dicendo assolutamente niente Per carità Che gioco vorresti che creassero? Qualcosa di diverso Qualcosa di diverso Dino che si fa stasera Il titolo della live Cosa c'è scritto? Leggi ad alta voce per favore Io non vado avanti finché non mi rispondi tu Del Toro Viola Rispondimi Cosa c'è scritto? Sul titolo della live Qual è? Quale cazzo è il titolo della live? Allora Cos'è? Facciamo finta che Magicamente è saltata la connessione? Eh? Non avevo letto scusa Ah 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 Oggi giochiamo a Zonomali Bestiace Oh Finalmente Finalmente Secondo te valgono gli Volgono Non ho letto un cazzo Quanti commenti Fermi Boni Secondo te valgono gli horror Che durano anche un'ora? Certo Ma perché? Cosa vuol dire? Un gioco può durare 20 minuti Non è che deve essere per forza Una roba da Da Non capisco il senso di questa Di questa domanda Non è la durata di un gioco a fare il gioco Così come non è la grafica È il contenuto Se qualcosa ti rimane nel cuore O qualcosa ti spaventa O ti fa saltare il cuore Ha funzionato Anzi Molti giochi horror Che durano meno di un'ora Sono quelli che mi sono piaciuti di più Vedi ad esempio Il primo Poppy Playtime Che durava 20 minuti Quindi direi che ci siamo Dino Serie tv preferita Breaking Bad Ora Direi di buttarci Con la sigla Perché non c'è molto altro da dire Sì vabbè Ci sono notizie riguardanti Dragon's Dogma Però vabbè Dragon's Dogma ragazzi Ne ho già parlato E Pietro Pascal Forse non reciterà Nel prossimo The Last of Us Forse perché Che il nostro caro Joel Muore anche nella seconda serie Speriamo Sigla Allora bestiacci Io direi di partire Sono le 21.40 Io direi di iniziare Inizializzare Quella che è La nostra nuova avventura Su Minecraft Minecraft Scusatemi Vine Leaves Vediamo se sta partendo tutto Qua funziona Ok ci siamo Ok Here we go Vi ricordo che Quello che abbiamo fatto È stato Quello che ho fatto Con le mie callose mani È stato Prendere Minecraft Nella sua versione vanilla Nella sua versione Diciamo classica E riempirlo E riempirlo Riempirlo Farcirlo di mod Fino a 53 mod E trasformarlo Da gioco Family friendly In un vero e proprio Incubo Non adatto Non adatto ai minori Non so che cazzo è È lentissimo È lentissimo Aspetta Prima di dire Che mi dimentico Attenzione Ah ma vi devo salutare È vero Ma che sto facendo Ma sto sbagliando Tutto oggi Fermi Vi devo salutare Prima Peppi da Sicilia Ovviamente Sauno Cox Manu Lollo Ovviamente Ale Sajuns Demenza paranormale Ehi Max Poi chi altro Il nostro Dartisius Grazie mille bestiazze Sakura De Python Poi chi altro Spapus Spapus Nome bellissimo Streamfux Noemi Pingu Poi chi ha Ancora Peppi da Sicilia Ma è onnipresente Poi abbiamo Cerno Poi chi altro Chi altro Bill Perfetto Serebertu Gesui Davidic Dark tua madre Come fai a saperlo Quella gotica Gubalu Sprigidur 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 Ah Sprigidur I piedini di Dino Non sono piedini Non sono piedini Sono fette Sono pezzi di carne Non Piedini è la cosa Più sbagliata Per descriverli Però va bene Va bene Va bene lo stesso Samulik Ghost Daniela Orecchiette Con le cime di rap Ale Cernobock Poi chi altro Poi chi altro Miss Franziska E poi l'ultimo Ma non l'ultimo Che è l'ultimo Degli ultimi ragazzi Chi da piccolo Non è stato allattato Io Andavo di latte di soia È la verità Ma a te che te frega Fermi 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 Rikerich Oh bestiaccia Non hai ciucciato da piccolo Oh ci siamo Ci siamo Ci siamo Io direi di partire Bentornati ragazzi Alla casa del signore Che gentilmente occupo Io direi di buttarci In questa nuova avventura Gioca Gioca Sto facendo partire il tutto Gioca Vediamo se va di qua No Abbiamo sbagliato tutto Non dovreste vedere Queste schermate inquietanti Che sta succedendo Si sta sminchiando ogni cosa Dove cazzo è Fuori dalle balle Oh Minchia anche Andrea Fuori dalle balle Oh Eccoci qua Direi che ci siamo Direi che dovrebbe partire Teoricamente Teoricamente sta andando Vedete il rosso Nazione Sulla mia faccia Di Minecraft Pittoresco direi Con questa bella musica Cave Horror Project Partiamo Cacassotto Via Vi voglio belli carichi ragazzi Perché sapete che io di Minecraft Non conosco nulla Eppure c'è tutta una guida C'è tutta E' diventato addirittura Una religione Ci sono personaggi come Lolo Lacustre Che vivono di questo gioco E quindi eccoci qua Allora Questo è quello che ho creato Questo è quello che ho creato Una piccola farm In poco tempo ragazzi L'ho fatto Dietro c'è l'acqua E non la vedete Ma c'è l'acqua L'ho fatto perché Il mio intento è quello Di riuscire a racimolare Un pochino di cibo Per essere indipendente E poter diciamo appunto Esplorare Esplorare E ho sbagliato no Però abbiamo sempre Il nostro passaggio Che va verso l'esterno Da questa parte qui Però noi non ci andiamo Per adesso Quindi ora Io come vedete sto morendo Di fame Di sete Ho bisogno di cibo Quindi direi che La cosa migliore da fare In questo momento È procracciarmene un po' Nel mentre sento della musica Tiro fuori la mia bella Spada di pietra Ma non avevo mica Un po' di Ah Vabbè sì Non ho lingotti ragazzi Dovrei andare a C'è perso un po' di lingotti Secchio lo mettiamo via Assolutamente Perché se no È la figlia Lo mettiamo qua Guarda Lo mettiamo qua La zappa La zappa per zappare La cordicella Per cordare Eccolo qua Accordiamoci Eeeh L'ultima volta Il cave dweller Mi è comparso Dalle mie spalle E mi ha dilaniato A metà con un urlo Simile a questo E sono morto E sono morto di botto Su tiktok non c'è l'audio Un grande classico Aspetta Ma non c'è l'audio In generale Per quale cazzo di motivo Non c'è l'audio Che palle Allora fermi ragazzi Ma perché non c'è l'audio Scusami Eh Dispositivo non connesso Ma che cazzo dici Cosa mi ha aperto qua Il gatto Salva Mi sentite No Non mi sentono Perfetto Ma perché non con le gatto Gli spettatori possono ascoltare Ma che cazzo Me ne frega a me Check Ma mi sento Triple Doppio Ok va bene A posto Ma sta andando o no? Ma non va? Ma non va un cazzo Non va? Ah sta andando? Boh Eh ma Come faccio a chiudere Sta schermata? Voi non avete idea Di cosa sto guardando In questo momento Ma quindi va o non va? Sì ok Loro mi sentono Adesso mi sentono Salve tiktok Vedi il motivo Per cui dovresti venire Su Twitch Per evitare Questi problemi tecnici Che stai aspettando? Oh cazzo Ho schiacciato un tasto Vabbè Si sente Perfetto Sì ma un problema È un altro adesso Sentirete il gioco? Chi lo sa? Chi lo sa? Che sta succedendo? Chi se ne frega Dei tuoi suggerimenti Di merda? Oh L'importante è che va Ditemi se si sente Ragazzi Si sente l'audio Di gioco? Oh Sì Si sentono? Sì Oh perfetto A posto Ritorniamo a noi E andiamo Allora Il cibo Soprattutto in alcune parti del mondo È carente La mamma me lo disseva sempre Mangialo Altrimenti gli africani ti picchiano Che è stato? Ok Ok Ho visto degli occhi Erano tanti Ma che cazzo è? Ma cos'era ragazzi? Ma perché? Sono uscito adesso Ma cos'era? Sono troppo curioso Sono troppo curioso Ma basta Ma che è? I bambini Aia No no Via 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 Chiudi Ok 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 Allora Allora No Ho bisogno di cibo ragazzi Quindi usciamo fuori E prendiamo il cibo che riusciamo a trovare In superficie però Non è dentro Qua sotto in queste condizioni Magari riusciamo anche a prendere un pochino di semini Per piantare il nostro grano E via Che si ricostruisce la mulino bianco sottoterra Oh È giorno È un nuovo giorno Cioè Io sto morendo Ma Lasciamo stare Ora Dobbiamo muoverci Secondo una logica Il cibo Dovrebbe stare In un bioma specifico Che non è questo Perché qua non c'è nulla In questo cazzo di posto Non c'è nulla Però di là ci sono dei pini alti Quindi io direi di seguire Quella direzione lì Buttiamo le torce in questo punto Ok 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 Non è che questa si ricollega alla faglia Dove siamo andati Dove Dove vivo Non lo so Ok 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 Eccoci qua I polli To Crepa Ovviamente in maniera goliardica Sta diventando notte Figano 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 Dov'è l'altro L'ho visto C'era Eccolo lì Eccolo lì Potrei farmi anche una farm di polli Sottoterra Che dici Ehi Muori Dov'è Oh Ma che cazzo Eh vaffanculo Però dovrei prendere le uova Ce le ho le uova Ho un uovo Bene A posto E' fatta E' fatta Mi serviranno due galline Mi serviranno due uova Non lo so Non so come funziona Sta diventando notte Abbiamo Abbiamo abbastanza cibo No Assolutamente no Ma io non voglio stare fuori di notte qui Lo sapete che cazzo vuol dire stare di fuori Di notte su questa mod Non lo voglio più fare Non lo farò mai più ragazzi Addio Oh Andiamo a dormire va Dovresti portarti dietro il letto Potrebbe ess Ehi là La sgocciola qui Bene Bene Molto bene Fai un allevamento di vacche Polli Quel che c'è Mucca e pollo Mucca e pollo Era una delle cose più inquietanti Che vedevo Quando Quando ero piccolo Parla di transessualità Non che sia inquietante Per carità Era inquietante il cartone In generale Allora Vediamo un attimo Di cicciare fuori un po' di cibo Ora Ciccerà fuori un pollo? Proviamo Ho ucciso un feto di pollo Non è andata per niente con il forest Abbiamo sprecato altre risorse Perfetto Ho visto leone cane fifone Bello leone cane fifone Altra pietra miliare Dormiamo Tanto non serve Devi avere fortuna Perfetto Dino piglia il ferro grezzo Con la fornace Diventa ferro Non ho capito un cazzo Però Ci potevo arrivare Oh Due polletti Due polletti E via Aspettiamo che mi si rifaccia la vita Veloce Perché ci mette così poco? Ma non mi ha ricaricato Ok mi sta caricando la vita Ma come funziona Sto cazzo di minecraft Io non me lo ricordo più Non vi è una pozione medicamentosa? Delle mie stanche membra? Allora Cave Dueler era da quella parte lì Io lì non ci torno Proviamo ad esplorare di qua va? Vediamo cosa c'è Olè Sembrerebbe abbastanza Minchia Gesù i suoni Ah son dato filaio Ehi là Ehi là Questo qua è un uovo di Di stronzo Specie endemica Qua si scende Mi infilo Ok Un pipistrello Va tutto bene Acqua Ok Cordicella Dai Anche questa può essere utile Tra l'altro con questa possiamo farci un altro letto Da Magari da portarci dietro Che dite Non riesco a passare Sto imparando le regole di minecraft ragazzi Lo sto facendo pian piano Ci vuole tempo Mi servirebbe del ferro Ma non c'è del ferro qua in giro To Ferro Incredibile Chiedi e ti sarà dato Ok Allora Allora Proviamo ad andare prima Prima di scendere vorrei salire Perché? E sono un fifone di merda Ecco l'ho detto Ah Sono sceso Buono No 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 aspetta Aspetta No Che vuol dire? Che cos'è? Che cos'è questo suono? Che fai? No Cretino No La mia piazza Pia 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 piazza Torcia Che cos'è questo suono? Ehi Ok 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 Cos'è questo suono? Che cazzo era questo suono? Non mi piace Sono senza torce? Sono senza torce Ma Dio santo Me ne serve una Me ne porto dietro una Avanti 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 Ok 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 Ma non c'è niente Ma allora Ma cos'era quel suono allora? Vabbè Non lo sapremo mai Vabbè Qua non ci andiamo ragazzi Perché non c'è un cazzo Ah ma si No Cos'è questa tra l'altro? Bedrock? Non so più distinguere nulla Di sto gioco Come faccio a tornare su? Non si può idea ser Buono Donde sta la biblioteca? Olè Olè Eccoci qua Un pipistrelo Uno pipistrelo Ma non vedo In realtà non vedo Ho sentito quel suono Ma non Sembrerebbe essere Niente di che Orca puttana Ma se mi mangio quel pipistrelo Che succede? Mi prendo il covid Ma cos'è stato quel suono ragazzi? Veramente no Bene Bene Ehi là Minchia ma è enorme Sto posto Sarà un macello Esplorarlo tutto Abbiamo due di ferro Non mi ricordo più Dov'è casa mia Ottimo Eccola qui Eccola qui Devo fare qualcosa Per Identificarla meglio Vabbè C'è una cascata Di fuoco Qui quindi Teoricamente Quanto legno ho in casa? Vediamo un po' Perché mi farei un po' di torce Ragazzi A dire il vero Fatti delle torce Eh esatto Mi farei un po' di torce Vabbè Guarda come cresce Incredibile Quindi devo Devo tenere d'occhio Quello concettualmente Il mio inventario Perché morire È un attimo Mi è preso un leggero Soffio cardiaco Morire un attimo Ma nascere anche peggio Ecco Sostanzialmente Allora qua c'erano le bambine Che ridevano Che è stato? Ho sentito un passo Figa Figa Non c'è più nessuno Buono 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 Ok E anche qua abbiamo esplorato Direi di scendere verso il basso Sto punto Non voglio scendere Uh To To Guarda cosa ho trovato Eccoci Minchia Tanto anche Mio Che è successo? Che diavolo è successo? Il pipistrello è finito nella lava? E questa è evoluzione però eh Io non c'entro nulla Non sono stato io Ehi là Minchia Gesù Ehi Mani in alto C'è uno scheletro Aicca trota Ma come cazzo ha fatto? Aspetta Non può venire fin qua Quindi sono al sicuro Intanto reperisco ciò che mi serve E procedo Sarà molto lento nell'esplorazione ragazzi Metodico direi Punti 83 Punti 83 Che voglio svenire Perfetto Da dove è sbucato fuori Quel simpatico amico? Non lo so Non lo sapremo mai Ok 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 Con calma eh Carbone E fin qua E fin qua A posto Ho perso tutto Tutto ciò che avevo L'ho perso Perché mi ricordo che avevo qualcos'altro Forse l'ascia Non lo so La spada La spada Avevo una spada io Potrei Vorrei buttarmi giù di qua Eeeh Micchia non ci sai proprio fare ciccio Aia Scusami Vado Muori Dov'è? Dino tieni premuto Morire Cazzo sono Ce n'è un altro? No Ok Ok Controlliamo però di qua Niente Ottimo Buono Non passa la volta ragazzi Questo che diavolo di materiale è? Ah E' semplice ragnatela Florescente ma semplice ragnatela Perfetto Ora mi domando da sto punto Quel creeper da dove si è sbucato Ah Eeeh Altre ossa Con l'osso che cazzo ci si faceva? Oddio non mi ricordo più Non mi ricordo nulla di minecraft Dino se hai abbastanza ferro Puoi fare scudo ed elmo Infatti quella è l'idea L'idea sarebbe Quella L'idea sarebbe quella Sento dei suoni Arroganti Ma lì c'è delle Ma c'è tantissimo metallo E non l'ho visto Bastava alzare la testa Vabbè sti cazzi Ah ma siamo tornati qua Un classico Un classico Allora passo dall'altra parte Maledetto telefono Allora non voglio morire Bruciato Neanche divorato vivo Se è per questo Quindi Manteniamo la calma E cerchiamo di capire Cosa è meglio fare Serve la spada Per rompere le Ah cazzo Guarda dove è arrivata La mia roba Come è fatto a finirla su E che si qua Niente Troppe notifiche sul telefono Fatemelo silenziare ragazzi Perché se no Sclero Io non sopporto Ste robe Diventi Iron Man Ragazzi mi serve Mi serve Mi serve Mi serve un Tony Stark A tutti noi Quello di cui io Ho il terrore E' quel cazzo di mostro Ragazzi vi giuro L'ultima volta Era in quella direzione lì Però non so se Penso si sposti il bastardo Ha molti epiteti Come potete notare Era da quella parte lì Penso si sposti lui Quindi non voglio fare La stronzata Di buttarmi così Senza Ecco senza Cioè a cuore leggero Mi piacerebbe avere Un equipaggiamento Un po' più Funzionale Ora con le ossa Possiamo farci mica la polvere Esatto E con la polvere Posso mica far crescere il grano Incredibile Buono E qui E fin qua Direi che Stiamo facendo enormi passi in avanti Enormi passi in avanti 19 di ferro Perfetto E con questo siamo a 3 Potrei farmi un'altra bella spadina Quasi quasi me la faccio adesso Che dite Non lo so Non è importante Ok Che sto facendo Non lo so Non è importante Perfetto Spadina Quanto sarebbe bello Se fosse effettivamente così Che funziona Il crafting Nella vita vera Con un cubo E due stecche Ti fai Una spada Wow Dino fatti l'elmo Io mi faccio chi voglio Hai capito Non ti devi azzardare mai più Puoi dormire solo di notte Ho capito Ah ma ho una spada di ferro Ah l'ho fatta adesso Sono un deficiente Ma per fortuna Sono bellissimo Ok Ora come funziona il pane Come lo devo tagliare Ah ok E adesso ho tre semini Geniale E E E' un circolo Allora Quindi adesso io faccio così Ok E adesso quanti semini ho? Ne ho cinque Mi stremo Quindi adesso io faccio così Perfetto E No Non è andata come Avevo previsto Aspetta Aspetta Ok A posto direi A posto Buono Grano tre Che cazzo ci devo fare col grano? Cioè me lo ricordo eh No non è vero Però col grano penso che basta andare qua Faccio Così? Non lo so Che devo fare col grano? Il pane È tornato Ma cos'è? Basta Cristo è buio pesto Ho il pane nell'inventario Ho il pane nell'inventario Non facciamo stronzate Non facciamo Non facciamo stronzate Ho il pane nell'inventario Come devo posizionare il grano? In orizzontale Dino? Ah 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 Pane Pain Pain Ottimo Lo mettiamo qua Ok E questo lo lasciamo crescere Però non credo Ho altri No non ho altro da fare Potrei farmi volendo Già che ci sono Scusatemi ragazzi Lo so che questa è una parte un po' noiosetta Sto cercando di Comprendere il gioco Vediamo un po' se riesco a farmi Iniziamo a farci altre robe di lana Così siamo a posto Potrei farmi anche un arco Che secondo me potrebbe essere intelligente Come roba Ma non ho le frecce Ne ho una Non so come si facciano le frecce Forse serviva la selce Ma la selce è introvabile in questo gioco Allora io vado eh Ma se lasciamo qualcosa nel commentario Tipo questa cagata qui Questo ci può servire Questo Eh? Che dici? Tanto Se esplori in miniera Ti serve soltanto Ma perché io ho tutta sta roba dietro con me? Via il rame Questo teniamolo A posto Vado eh Io ci sono eh Cristo Ah eccoci Eccoci Ok Eeeh Ok E fin qua Direi che è facile E fin qua E fin qua Aghia E fin qua A posto Andato Andato Procediamo con calma Non so perché io stia esplorando questo di notte Uh Uh Brutti suoni Brutti suoni Ah Cave dweller Nome incredibilmente importante Da imprenditore proprio Signor dweller Sir Arca puttana Qui c'è un Delirio di strade Uh Uh Ehi la Ehi Piano eh Piano Ah Che idea malata Che idea malata Che idea malata Dove cazzo sto andando È una pessima idea Non so dove mi trovo Ma è un delirio Niente ragni però Solo Solo simpatiche ragnatele Ok E non porta nulla Ho perso tutto Ho perso semplicemente tempo Vabbè Ragazzi andava affatto Ho una leggera ansia ragazzi Io vorrei ucciderlo il Cave dweller Vorrei Cos'è che mi ferma Non so però come si faccia ad uccidere una bestia del genere Oh Non so neanche se si possa Boom Questo è pietrisco Ma Prima io mi ricordo che il pietrisco Nelle versioni che giocavo io di Minecraft Era Una forma di pietra C'è nel senso La ottenevi spaccando la pietra Non la trovavi in natura così Ui boh E' buio E' buio E' buio rancido Non vedo nulla Che cazzo è quello Che diavolo è quello Questa l'ho messa Arca miseria Da dove sei sceso Vaffaculo Vaffaculo Oh si Ok 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 Cos'è quello Tralasciando che ho delle Degli spiriti eterni nel mio portafoglio Nel mio portafoglio Nel mio inventario Dio Fermi Fermi Ok Ok Angolo dell'invincibilità Non vedo niente per adesso C'è vedo Vedo un sacco di risorse Per carità però Ragno Canonico Caratteristico Perché piove dal cemento Quello è amianto? Ottimo Ottimo Vedete In minecraft Non sempre Il pericolo Sta nelle cose grandi Eh ma Sei il ragno Più Scadente Che cazzo E la madonna Che danno Mi sta demolendo Aspetta 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 Non ho cibo Qui ci crepo io Torna a casa 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 che è meglio Dai 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 No Mi sto cagando sotto ragazzi Ma cos'è sto suono Per favore Spiegatemelo Ci sarà una Cosa cazzo è un elefante in bottiglia Cos'è Ma è Continua E mangia Mangia mamma Non dà abbastanza cibo il pane però Che schifo Pensavo mi desse più Chiedo mi mente perdono Pensavo mi desse più roba ragazzi Sto iniziando Eccoci Sentite Io voglio sapere che diavolo è sta a fare Quindi Mi butto Mi butto E seguiamo il suono Tanto anche se dovessi morire Guarda facciamo così Per sicurezza mi tolgo l'armatura Va bene Mi tolgo l'armatura ragazzi Tanto sto morendo Voglio dire Almeno se respawno Ce l'ho qui no? Devo capire cos'è Devo capire Questa è scienza È scienza Anche la spada mi tolgo Vado nudo Come la creatura Non la temo quindi Abbiamo un cubo di sabbia Meglio di niente Non ho più spada Quanto oro legno ho? Non ho legno Mi servirà bene anche quello Ma se mollo qua sta roba Il piccone Quando torno lo ritrovo Non è importante Non è importante Facciamo una roba Raggruppiamo quello che si può raggruppare Utilizziamo ciò che non mi sa Guarda queste cagate qua Tipo la lascia d'oro Tocco di velluto Danni per colpo 7 Sembra essere potente La palla d'oro ce la teniamo Perché mi piace È una palla ragazzi È una vanga Queste robe invece Non so dove metterle Non so dove metterle Il fungo Mettiamoci via il fungo E mettiamo via questo E anche la carne è essiccata Non serve a nulla Per adesso almeno Poi non so che utilizzo Abbia ormai nel gioco Vado eh Io vado eh Sì ma chiudila la porta Allora qua c'è Il cave dweller Vado Muori Quindi quel suono lo fa lui Quel suono lo fa lui Ma poi sparisce Ma è ancora lì Mi lasci Sto cazzo di suono lo fa lui Che? Bounty Eh non muore ragazzi E vaffanculo Quindi questo suono E questo invece Questo invece che suono è Mannaggia Eh ma è tosta buttarlo giù Mi ha shottato ragazzi Cioè senza armature Mi ha letteralmente shottato Come faccio Sono io Come faccio ad ammazzare Una roba del genere Lascia d'oro Ha funzionato ben poco comunque Perché? Perché non l'ho usata Allora direi che Forse la cosa migliore da fare In realtà non è neanche Combatterlo È Farselo amico Ma certo Stiamo imparando Stiamo imparando però Dai Forse Forse dovrei le armi con Con aerobrain Ormai mi sta simpatico Dovrei sfruttarlo di più Ecco Allora questo Mettiamoci la nostra bella armatura Oh E Lasciamela tengo Questo lo metto di qua Sono un po' autistico Scusatemi Questo lo metto di qua No Non volevo dirlo in questo modo Sono Acustico Come dicono su tiktok Perché Perché è vietato Con gli spiriti che ci fai Credo che Bolliti o fritti Siano la morte sua Dagli le coccole Non so che cazzo ci faccio con gli spiriti Ne mangio uno Non posso mangiarlo Che cazzo ci faccio con gli spiriti Non ne ho idea io Lo cuoscio? Vediamo un po' Non si può Peccato E Non ho idea di cosa ci possa fare Posso metterlo magari dentro Aspetta ho un'idea Io ho delle ampolle Vediamo se Magari ci faccio una granata No Come funziona? Non direi che devo farmi tutta la roba di ampolle Per metterlo No non avrebbe senso Non lo so Una granata di spiriti sarebbe carino Abbiamo 22 lingotti di ferro Per farmi lo scudo Come cazzo si fa? Questa è una porta Questo è un cubo Vabbè E usiamo il ricettario Vediamo un po' che cazzo mi dice Porta Scudo Scudo Dov'è lo scudo? Qua Armi Non lo vedo Non c'è Non vi è Eccolo qui Qualcosa ha bussato Scusatemi Lo scudo era quello lì? Lingotto di ferro Un lingotto di ferro serve? Vabbè ma è poco Si può fare Oddio Non so quanto sia intelligente farselo Fate un elmo e un piccone di ferro Va bene Va bene mamma Mi serve il legno Che ho messo No il legno Le corticelle che sono qui Facciamoci sto cazzo di piccone Che effettivamente Ha senso Ole Ok E questo è fatto Facciamoci anche l'elmo Che vabbè in realtà è tutto qua E questo è fatto E Boh Basta Direi Ha compiuto il progresso Incredibile Oh Va che meraviglie che sono E queste altre cose Le metterei Da parte Perché vi ho paura Vi ho paura Non le posso riposizionare qui Peccato Era uno slot in più Si poteva utilizzare Abbiamo la spada Un'ascia d'oro Che male non fa Ma mi levo dai coglioni Arrivederci mondo Io vado su Ad esplorare ragazzi Dobbiamo iniziare un attimino Anche a capire Dove poterci muovere Io andrei a vedere Chi bussa la porta Ma perché Aspetta Hanno veramente bussato la porta O Perché io ho dato per scontato Che fosse Non lo so La fornace Però a sto punto Mi stai facendo venire In mente che Non è nessuno Ti ricordo che hai l'altra chest Sì ma questa chest È per il cibo Tra l'altro Eccolo qui Ehi Ehi Non mi ha dato il grano Non mi ha dato il grano Non mi ha dato il grano Dov'è il grano Non ho il grano Non era pronto Come non era pronto Ma era rigoglioso Ma che cazzo è Ma che succede Ma che succede Allora non era Un creeper Ma che minchia di suoni Creeper non mi ha visto Me ne vado Me ne vado Me ne vado Me ne vado Basta Basta Via Me ne vado Dino attento Un classico È il dweller Non ha lo stesso suono Non era lo stesso caratteristico Il suono Da tromba Non so neanche come definirlo È notte fuori No non mi sembra È giorno Ola Eccoci qua Eccoci qua Ora Abbiamo esplorato un po' Tutti i punti Il problema di questa mappa È che i biomi Si stanno ripetendo all'infinito Sono sempre gli stessi Cioè non so se state notendo L'avete notato Quindi io vorrei Sinceramente Dirigermi da qualche parte Di ignoto e sconosciuto Alla ricerca magari di pecore Insomma Così è un po' più facile Dovrei anche farmi una mappa Sta diventando notte Eh ma minchia però Vorrei anche farmi una mappa Non so quanti Devo trovare un altro modo Anche per segnare la via Qua ci sono già stato Io qua ci sono già stato Mi sa Mi sa che da qua siamo arrivati La prima volta Sai Boh Bella domanda Perché ti trovi sempre Nelle stesse vicinanze Il legno E che vuoi da me E pigliamo il legno Eccolo qua il legno Ecco Mamma mia Viene giù che è una meraviglia Ecco qua Ecco come la fisica Va a morire Ho sentito uno strano suono Ci sono dei villager Ho sentito un Ma non ho visto nessuno Vabbè sti cazzi Abbiamo 13 di legno Anche questo può servire Eeeh Prova ad andare verso la tundra To Lado dritto Dritto per dritto di là Così almeno è anche più facile capire Dove cazzo È casa Se io metto qua Una bella torcia Qui guarda 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 Aspetta 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 Guarda Aspetta Aspetta Come ho fatto a metterlo Come ho fatto a metterlo sopra la mia testa Ok Ok guarda A posto Saprò sempre dove sta diventando notte Saprò sempre dove andare È geniale no? Bastare a guardare questa piccola luce nel cielo A posto È fatta Dino F3 per le coordinate No non fammi ripremere F3 Ho paura di F3 Buon cielo Non so dove guardare Dove cazzo Non so cosa sia Tutto ciò Fanculo Ok Stiamo veramente per fare quello che sto per fare? Di notte? È una buona idea? No Perdo la tutto ciò che ho Armatura e compagnia bella Non importa Ah minchia come viene giù Dio Sì vabbè ma non la vedrò mai la torsia da lì No non si può fare di notte ragazzi È letteralmente infattibile Cioè guarda che roba Non vedo più niente E quello? Ah Guarda un po' Però Però Mi sento Mi sento stranamente al sicuro Con quella lava lì Vicino a me Non so per quale motivo Cosa faccio ragazzi? Sono bloccato Ho paura Che faccio? Premi alta F4 Bene Buono Dormi? Io dormirei E va bene Dormiamo ragazzi Tanto abbiamo stamina infinita Attenzione Ma perché rugiscono solo e soltanto quando Guardo verso di loro? Eccoci qua Eccoci qua La fieto Eccoci qua Buono Via Vaffanculo Domani cibo? Quanto Teoricamente Avessi anche Un po' d'ossa Potrei Potrei eh Un po' di farina d'ossa Potrei cercare di aumentare il mio grano Però non so Allora Allora Adesso è giorno Quindi Intanto No fermi 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 Intanto io ho assolutamente bisogno del mio carbone per farmi le torse Perché se no qua non andiamo da nessuna parte Quindi Per l'amor del cielo Queste non mi servono solo per vedere Mi servono proprio per muovermi Perché altrimenti è un delirio Questo legno in realtà Lo terrei qua Quindi teniamolo qua Momentaneamente Sti cazzi E procediamo Ma quanto Quanto poco dura Lascia d'oro Scusate Mi ho tirato Tre lasciate E sei già rotta Che schifo Vedete Fai lo scudo No 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 Non faccio lo scudo Sai perché? Perché non serve a nulla Non serve a nulla Non nelle mie condizioni Non sarei in grado di usarlo Minerale rosa E che ci faccio col minerale rosa? Ditemi che quello che è dietro di me è il totem di prima Grazie al cielo è un albero Pensavo fosse Una bestia con mille tentacoli Allora Proviamo ad avanzare per di qua Che sarà mai? Dico io Lì abbiamo il bioma Delle D'alberi bassi Non so come chiamarlo E lì c'è una grotta Top Un'altra L'ennesima Niente mi insegue Buono La luce del sole ha spazzato via ogni demone presente sulla vallata E qua Io arrivo Qua Beh cazzo qui ci poteva Si poteva fare una bella casetta Altro rame Completamente inutile Questo ad esempio Che cazzo è? E' una rana E' una cazzo di rana Dio Cos'è sta roba? Fango? Ma io che cazzo ci dovrei fare col fango? Creature enigmatiche le rane Sono tutti uguali Sti cazzo di biomi Oh aspetta Questo è nuovo Almeno questi alberi non li ho mai visti O forse si Non lo so Non lo so Allora devo seguire il fiume Ricordiamoci di seguire il fiume Piazzo qua una Una torsa Si Stai lì Ok 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 Buono Sparisce la torcia lì? Perché? Ficchia Ma posso due secondi poter procedere? E' un'ora che siamo Siamo fissi qua da un'ora ragazzi Non sto facendo più niente Boh Spada di ferro Seguiamo il fiume Vediamo dove cazzarola mi porta Cioè non ci si può perdere Un fiume Dio buono Mettiamo le torcine ogni tanto E quella? Chi l'ha messa? Io? Mi sa di sì Spero di non confondermi Spero seriamente di non confondermi Dino nice Vai che bello Ah Non vedo Vedete che è tutto uguale? Cioè non Non cambia il bioma Non cambia Attenzione Montagne Si impennano montagne lì E in alto si erge Il volto di Dio Che faccio? Uccidi i maiali E non ci sono Questa che cazzo è sta roba? Che materiale oscuro è questo? Arenaria? Ma che? Ma non so neanche cosa sia nella vita vera l'arenaria Vabbè abbiamo l'arenaria Ah il vero c'era il portale Ma andiamo nel nether Voglio vedere com'è il nether In questa mod horror Sarebbe figo capire cosa cazzo ci hanno aggiunto Però per farlo mi serve Che mi serve? Non lo so che mi serve Non mi ricordo di te La cesta me la porto via Ci proviamo? L'ossidiana Sì Per far l'ossidiana mi serve Che mi serve? Non mi ricordo Torniamo indietro Torniamo a casa Mi serve la lava no? Acqua e lava? Ho anche fatto il Non ho più stamina Sto morendo di fame Mi sono anche fatto Il secchio Quindi dovrebbe essere abbastanza facile Il procedimento Ora io non credo di essere pronto Per andare in quell'inferno Ma sti cazzi Acqua e lava Perfetto E così basilare tutto ciò L'audio L'audio Non posso correre? Ah quando la fame è così bassa Non posso più correre Perfetto Dino muori senza cibo? Grazie mamma Fai la farm di ossidiana Ma adesso non esageriamo Faccio quello che posso Ragazzi non devo costruire La più grande fabbrica Ma non devo autosostenermi Per l'infinito In questo gioco Devo più che altro esplorare E capire cosa hanno giunto Nella mod Non voglio giocare In modo canonico A minecraft Quindi non mi vado A fare farm Di diversi tipi Quello che vorrei fare È mangiare Sti maledetti funghi Senza doverli cuocere Guarda quanto cibo c'è Ma non c'è un cazzo Di animale In sto gioco Cioè io non Come faccio a sopravvivere? Non c'è cibo Non c'è cibo Quelle rane di merda I francesi se le mangiano E io non posso Tu dimmi Non c'è cibo Guarda C'è un cazzo Non c'è Come faccio Ad andare avanti così? Sarà da qualche parte Un porcello Un Fammi vedere Mi ricordo che Ok Vabbè È caduto un tronco Non so cosa sia successo Che è stato? La volpe La volpe Ok perfetto La volpe C'è un predatore Ci sarà anche una preda O no? Ha senso il mio ragionamento? Non c'è Vedi che non c'è niente Cane da zucchero Magari quelle Rane Ancora rane Non c'è niente ragazzi Non c'è nulla Non è normale che non ci sia nulla Vabbè sti cazzi Torniamo giù La carne di mostro Me la posso mangiare C'è un modo per bonificarla E mangiarmela? Ti serve il piccone di diamanti Ah perché? Ah beh sì Perché devo romperla L'ossidiana Porca troia Mangia il ghiaccio Mangia la neve gialla Rimettiti a pescare Eh ma non Non riesco a prendere i pesci Non ci sono Sti cazzo di pesci Oddio Mi avete detto Che il modo più rapido È quello di tuffarmi E ammazzarli a mani nude Proviamo Ho paura Io qua Non ci esco Adesso mi vedo Aerobrain Che mi fissa da sopra Ridendo Aiuto No 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 Cosa mi avete fatto fare? Avanti Avanti Ti Che fai? Preghaco Ma che cazzo Mi avete fatto fare? Ma siete fuori di testa Perchè non si rompe il ghiaccio? Che è stato? Ma svettila di mettere giù le torce Ma basta Per poco non morivi Ma io me la so cavare ragazzi Me la so sempre cavare Stavo per perdere tutto Tutto Ovviamente soprattutto la dignità E' chi c'è qua? Allora Abbiamo trovato una nuova cesta Che io andrei a posizionare qua A sto punto Che non la spreco Niente Anche un lingotto Non so che cazzo ci faccia qui un lingotto Dovrei fare un po' di legno Facciamo un po' di legno Voilà Eccoci qua Eccoci qua Legno di diverso tipo Va che schifo E' una cosa che non so Guarda C'ho tutte le tonalità di colore E non è comunabile A me sta cosa mi urta il sistema nervoso Non poco La carne marcia Me la posso mangiare? E mo che ti mangi? La carne marcia Me la posso mangiare? Vorrei mangiarmi il pane Ma non cresce sto cazzo di grano Il secchio potrebbe essere un'idea Puoi fare la doppia cesta Sì ma adesso non è la nostra priorità Sì ma appaiono le mosche Serve luce Metti la torcia sopra la cesta della farm E quindi adesso? Cosa ho ottenuto? Metti il cibo sopra Eh? Trova un villaggio Credo che ci voglia il sole Eh più di così C'è una torcia Che illumina Il nostro cammino Fottimamente potrei morire ragazzi Morire mi fa respirare Che male c'è? Che male c'è nell'arrendersi? Eh? Che dite? Ha senso? Ma io ho bruciato tutto Sono un deficiente No No sono un deficiente A me serviva il carbone Ho bruciato tutto il legno Dimmi per favore che posso No ragazzi Ma perché non mi avete fermato? Ma porca puttana Ma è tutto sbagliato È tutto sbagliato Che cazzo è sta? C'è una mosca C'è un moscone Oddio Ci muoio qua Dov'è? Che suoni sono? No Chiudi Oddio È un bambino A Crimson Moon Esapeared E basta E basta Salve No No Chiudi No Ok calmi Calmi Buoni Buoni Fermo 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 No 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 Bastardo E adesso però Ho tutto il cibo Vedete? Era una strategia fin dall'inizio Ho il pieno controllo della situazione Sono completamente tornato al 100% Allora Mangiare quindi la carne marcia non se ne parla giusto? Devo capire cosa cazzo fare È stato ucciso da Cave Dweller Grazie per ricordarmelo ogni volta che mi addormento Allora Vediamo un attimo di farci Questa Meravigliosa Classico suono No Che stai facendo? Dovresti prendere No Dovresti No Dovresti Ok stiamo sbagliando tutto qui Dovresti prendere la lava Non puoi prendere la lava Forse è più facile portare l'acqua alla lava Mi sa di sì No 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 È tornato È tornato Mannaggia Io non riesco ad uscire da qui È impossibile giocare a questo gioco E muori Dov'è? 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 Oh Ehi là Dov'è? Dove cazzo sta? C'è un pipistrello lì Non c'è Non c'è Non c'è più C'è che cazzo è che rifare le C'è qualcosa che ricostruisce le ragnatele Forse il fatto di aver messo tante torce in questo punto Non permette ai nemici di spawnare Positivo Forse è per questo che non mi spawna più il cape dweller in fassa È buono Ma basta Ma continuo a cannare Datevi una calmata La lava fa La presa alla fonte È ok Fin qua Chat solemoji Attenzione Dino l'acqua e il grano Eh? L'acqua è già Che cosa intende? Ah no sì L'acqua e il grano Ho capito cosa intende Sì giustamente Adesso con calma Ragazzi perdonatemi Io sono smemorato Allora andiamo a prendere l'acqua Se mangi la carne di mostro esplodi Proviamo Adesso ci provo Che poi la prima volta che l'ho assaggiata È perché mi sembrava sinceramente carne essiccata Che devo essere sincero Sembrerebbe buona così Ad occhio eh Allora abbiamo Vai giù Muoviti Abbiamo un pochino di acqua Io ce lo butto su un pochino di lava E teoricamente dovremmo creare un pochino di impenetrabile ossidiana Il problema è che ci servirà poi un piccone di diamante Da quello che mi avete detto per romperla E io il diamante non l'ho trovato Quindi Come facciamo? Come si fa? Come è possibile? Eh? Hm? Se la metto qua Ma quella è ossidiana? A me non sembra ossidiana Che sto facendo? È diventata pietra No aspetta No l'acqua Ehi! Dammi la L'acqua Fermo È peggio di prima È peggio di prima È peggio di prima Ma questa non è ossidiana Sto male Non dirmi che stai male Dimmi che devo fare Il diamante deve scendere ancora di molto E sia Ragazzi È tempo di miniere È tempo di Minecraft Soluzione Soluzione drastica Granito Ancora Ma basta Vado Vado Scendo Scendo È fatta È deciso È deciso Non Questo che cazzo è adesso? Black argillite Ma che vuol dire? Ma che cos'è? No Dammi 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 Non lo troverò mai Sto cazzo di diamante Io non sono fortunato In ste cose Le cargillite Mi fa ridere Sembra una malattia venerea Questo? Che cazzo è questo adesso? Piglietrisco di Ardesia Profonda Ma cosa cazzo? Cosa? Dio Che è stato? Perché l'Ardesia fa sto suono adesso? Ma posso tornare su? Come di no a livello meno 32? Ma ragazzi Ma non c'è soluzione Dino prima hai già preso un diamante Come prima ti ho preso un diamante? Ma non è assolutamente vero Dove l'avrei tolato sto cazzo di diamante? Avevo un diamante ragazzi Ma dove? Ma quando? Bene Buono Il Cape Deller è da qualche parte Là in fondo Ah l'avevo perso? Ma non mi ricordo manco Di averlo trovato Quindi Forse intendeva Il lapislazzuli Che è simile A quella roba blu Che poi oddio Ma una certa Mi dovrò fermare Non è che posso andare avanti così Allora io direi che Adesso che siamo scesi Di non so quanti cubi E poi tornare Sarà faticoso Per il tendine del mio pollice Perché dovrò schiacciare spazio La barra spaziatrice a ripetizione Direi che Tra cinque cubi di profondità Mi fermo Due Tre Quattro Cinque E da questo preciso istante Scavo in avanti E' geniale A tutto senso A tutto senso Dove vado vado Prima o poi una certa Lo trovo Ok Bene Adesso da qui Uno Due Boom Vado a fare una perlustrazione Di zona in zona Avrò l'inventario Pieno di schifo Ma una certa Troverò qualcosa Per forza di cose Ragazzi io vado a setacciare Punto per punto Punto per punto Noiosissimo Noiosissimo Secondo me sei troppo giù Come sono troppo giù C'è pure un troppo giù Per il diamante Non è più giù possibile Troverò bel zebu Vabbè Almeno ho compagnia Meno cinquantacinque Sono i diamanti Come meno cinquantacinque E quanto sono sceso io Che cazzo lo sa Attiva le coordinate Io non attivo un cazzo Gioco alla vecchia maniera Quello che avete sentito Era il suono del cane Che si grattava Ok Mi sa che stiamo perdendo Un po' di tempo Continua a scendere Di più Di più Di più Continua a scendere Avevo trovato il diamante Ferro e quindi si trasformava Non ho letto un cazzo Perché il commento è andato su L'è lunga ragazzi Eeeh E' veramente lunga la cosa E spero tra l'altro Che Aerobrain Non mi rompa i coglioni Ogni tanto si sentono Dei suoni differenti Quando scavo Ok aspetta Questo che materiale è Blackardesia Sembra il nome Di un profumo Di un rapper Cosa devo fare qua Quanto ho scavato Ho scavato troppo in fondo E con troppa avidità Lo sapevo Quanto cazzo Devo andare giù Ragazzi Avete contato voi i cubi Io non li sto contando Hai quasi finito il piccone Occhio Usiamo l'altro Ci vuole il doppio del tempo Perfetto Oddio potevo immaginarlo Minchia sei tosta Ma che materiale del cazzo è Pietrisco di Ardesia profonda È lo stesso Vabbè L'avevi trovato il diamante Che solo l'hai scavato Col piccone di pietra Anziché con il piccone di ferro E quindi si era trasformato In ragno Logico Sì sì Logico Vabbè io ora Non mi capirò mai Ehi Ehi Che diavolo è quella Polvere di redson Ci sono vicino No Giusto Potrebbe essere qua il diamante O no Possibile? Figa ho sbagliato il calcolo Attento sotto i piedi Dio buono Ma sto scavando Sto scavando in diagonale Ragazzi come cazzo faccio A finire la lava La redson serve per fare i meccanismi Bene Quello era un bossolo di ragno Io credo in te Quella ti serve per la bussola Ah ecco Questo potrebbe essere Utile Allora facciamo una roba Io Ritorno su Perché così Possiamo depositare I miliardi di I materiali che Minchia è una certa Me lo trovo lì Ero Brenny Io lo so I miliardi di materiali Che ci siamo portati dietro A quel punto Ritorno giù Con un piccone funzionante Tanto il metallo Lo abbiamo E proviamo a trovare Sto cazzo di diamante Perché io devo andare A minor moon has appeared Che cosa succede? Che vuol dire? Che cos'ho? Che malattie? Che malattia ho? No eh? No eh? Perché c'ho il simbolo Di un piccone in alto a destra? Voi non lo vedete? Ma guardate? Aspetta eh Che cazzo è quella roba lì? Dov'è? Dov'è la mia La mia camma? No Dov'è? Qui Non trovo il piccone Ecco No No Cazzo è la mia Eccola qui Vedete che c'è un simbolo Di un piccone? Qua Che cazzo è sta roba? È uno status? E quindi? E che ho fatto? E che è colpa mia? È una cosa buona? È un effetto? È un boost? Ah E io l'ho appena sprecato dormendo Ma porco due E niente è andata ragazzi Amica amica Ma non so nulla Di sto gioco non so nulla Di sto gioco non so nulla Ma fammi dove cazzo è il piccone Ma dammi il piccone Fammi il pisto cazzo di piccone Ma l'ha fatto il piccone? Non so se mi ha fatto il piccone Eh no perché prima devo fare di stick Eh già Eh già Eh già Eccoci qua Eccoci qua Eccoci qua Ec già Ok Mille mila stick A posto? Così quasi mi faccio mille mila bottoni A posto? Eh Me ne farei un altro? Ma sì Ma che ce frega? Eh Sì Allora il secchio per l'amore del cielo Lasciamolo qua Che se no sbaglio Intanto spero e penso che il cibo qua stia crescendo La redstone a sto punto la depositiamo Perché tanto Vabbè che ne troveremo altra Anche il lingotto di ferro per dio Questo ce lo teniamo che ci serve per la luce E io riscendo giù A lavorare Perché tanto non abbiamo nient'altro di prezioso no? I funghi I funghi I funghi Dino alzi la cam? Ah no la lascio lì adesso È andata Perché hai un feto nella cassa? È una lunga storia È una lunga storia Fatti la bussola Di già che è la pietra rossa Eh ma non mi serve Ma non mi serve l'oro Per farmi la bussola Io non capisco un cazzo Allora Torta di zucca? Buona Allora sarà qua negli strumenti Suppongo no? Bene Intanto sentiamo dei suoni allucinanti Cesoi e acciarino Ah Potrei farmi l'acciarino Ma non ho la selce Come al solito Ho un Ox table horse door Clic destro per altre ricette Non vedo la bussola Dov'è la bussola? Quello è l'orologio Questa non è mica la bussola Questo qua Questo qua Si muove una bussola Però non vedo Sì effettivamente non vedo Non sto capendo un cazzo ragazzi Era così semplice Minecraft una volta Era così cazzo semplice Una volta Dio bono Ti serve la crafting Ah Ah Ok Via Allora Teoricamente siamo all'altezza giusta Dove dovrebbe Dove dovrei trovare Redstone e quant'altro E continuo a sbagliare L'ordine del Come si chiama Micchia Eccoci qua Aspetta Ok Dovrei trovare qua Da qualche parte Il diamante possibile Bene Seguiamo il suono va Tanto ormai a me Che cazzo me frega Possibile che sopra di me ci sia Qualcosa O qualcuno Ottimo 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 È qua È qua vicino a noi Non so dove Ma è qua vicino a noi Dammi un suono ciccio Fatti sentire Allora è molto Eccolo È molto alto Non penso possa Uh Vabbè Mettiamo una torcia Va che non si sa mai Non penso che l'amico possa Infilarsi in un buco così piccolo È molto alto Cazzo sarà alto Almeno tre cubi Non sbaglio Sto scavando tantissimo Sì però non Non è Minecraft È solo questo? Eh? No Non lo troverò mai così Attenzione Mi sembra che sia sopra di me Ma non vorrei dire il puttanate Secondo me è sopra di me Ragazzi Sei lo spam? Come? No Non è solo questo? Spaccavo più velocemente Con l'effetto Eh lo so ragazzi Sono cambiato Spaccavo di più prima No a sinistra Ora ti cade in testa Io lo sento qua Dove cazzo è? L'ho trovato L'ho trovato Sì 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 È fatta Guarda quanti Mio Tutto mio Buono buono Torniamo a casa Torniamo a casa ragazzi Tutto è bene Quel che finisce è bene Eccoci qua Adesso esplodo completamente a caso Mi prende il colera, la peste bubonica Non lo so, qualche disgrazia Mi cado una tegola in testa Qua non ci voglio più stare Ma quanti cazzo sono adesso No ragazzi c'è qualcosa che non va Questi si stanno moltiplicando alle mie spalle Adesso mi sono entrati in case Io ho una tecnica Infallibile Quando ho paura svengo Ma come cazzo è successo Questa cosa qui Sti cazzi Eccoci Ok Allora Allora eccoci qua Piccone di diamante Giusto? E' questo quello che devo fare Confermatemi per favore Perché ho solo 5 diamanti Giusto? Giusto? Sì Bene Come ottengo la Quella? Il piccone di diamanti L'abbiamo fatto Per sicurezza Lo vado a mettere Vabbè no me lo tengo nell'inventario Non lo so Non ne ho idea Guarda quanta roba ho Quanta roba ho Devo pulirmi l'inventario Che fastidio No questo me lo tengo Lo mettiamo di qua Ottimo suono Ottimo suono Per niente inquietante Questo lo metto di qua Questo lo metto di qua Questo Questo lo metto di qua Questo che cazzo è di orite Ma come ti permetti? Questo lo metto di qua Questa me la tengo di qua Questo lo metto di qua Questo lo metto di qua Di qua Di qua Questo lo metto di qua Questo lo metto di qua Questo lo metto di qua Di qua Questo lo tengo di qua Questo lo metto di qua I fuochi mi stanno portando fortuna Me li tengo Vai a picconarlo Diori te Hai un lago di lava fuori casa Getta un secchio sopra Però sopra Perché l'ho provato C'ho provato prima ragazzi Ma non ha funzionato Intanto vediamo se riesco a prendere Oh un po' di gran Ho sbagliato Questo è il massimo No Sì Non capisco quando cazzo cresce l'erba Figa Deve essere tutto giallo Aspetta che mi sta turbando l'anima anche a me Ok A posto Ok Sono i 52 Non ho fatto nulla Beh oddio in realtà abbiamo un piccone di diamanti adesso Allora Gli altri diamanti intanto li metto via Perché altrimenti mi mangio le mani I semi assolutamente anche questi Li mettiamo qua Non posso mangiarli i semini Sembrano buoni i semini E mi serve il mio Sentite i suoni là fuori Mi serve il mio maledettissimo secchio Dove cazzo è il mio secchio? Dove l'ho messo? Era qua il secchio Dov'è il mio secchio? E qua il secchio Perché il secchio è qua? Chi lo sa Allora devo andare a prendere l'acqua Come avete detto Giusto? Andiamo a riprendere l'acqua Ma mi farei un altro secchio Guarda così C'ho due secchi d'acqua Vaffanculo Tanto ce l'abbiamo il metallo per farlo No? No? Eccoci qua Qua dovrebbe essere andato Guarda qua Ho altro metallo Non ho altro metallo da mettere a bruciare Che cazzo ne so io Uno, due, tre Uno, due, tre No Un altro Ma basta così Due secchi vanno bene Due secchi vanno benissimo Potrei farmi lacciarino? Cosa cazzo è sta roba? Ah c'è zoie E questo? Pepita di ferro E che ci devo fare con la pepita di ferro? Vabbè Ehm Non ci domanda per adesso Ma è notte? Non lo so Dormi? Non posso Perfetto Buono Che dueller? Io non esco signor dueller Mi dispiace Mi dispiace Se tieni insieme in mano i polli Ti seguono Come se tengo insieme in mano i polli? Che cazzo vuol dire se tengo insieme in mano i polli? Basta! Basta! Se tengo insieme in mano i polli? Ah lo devo tenere in braccio intendi? In mano E che? Come è successo? Vabbè Ma com'è possibile? Non c'è acqua qui Vabbè Si è pagato tutto Perfetto Addio Addio Via Come devo fare per la lava? Veloce Come devo fare con l'ossidiana la lava e tutto quanto? Come si fa? Come funziona? Mi avete detto che devo mettere l'acqua sulla... Come si chiama? Sulla... Sulla... Sulla lava Ma mi avete mentito Fuori Dietro casa Hai un lago di fuo... Di lava Ok vado lì A livello basso della miniera? Eh? Quella fuori Ah quindi deve stare per te Oh mio Dio Non ditelo in giro Avanti veloce Muoviti Muoviti veloce Come una luna bianca è apparsa No 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 non è il momento Non è il momento Non ora che sono così vicino alla vittoria No è una pessima idea No ragazzi non posso Non posso Non posso star fuori la notte Devo tornare indietro Mi dispiace Avete ragione lo so Ma non posso rischiare Non con il... Non con questo equipaggiamento Non posso rischiare Che stai facendo? Non è il momento di fare un pedirubio Muoviti C'è dell'acqua qui Come è entrata dell'acqua qui? Ma come cazzo? Vabbè Non è importante Fifone il cazzo E comunque si Non posso rischiare ragazzi Seriamente Non posso rischiare di perdere il diamante Ce la posso fare Tanto lo faccio in fretta Guarda E che ci vuole? Che cazzo è successo? Che cazzo è successo? Per favore Ma basta Ma mi hai detto Dormi in italiano? Signor dweller Non c'è Ma sbaglio Ho detto Dormi in italiano Figa È da svenire Sto gioco però Ok di qua Veloce 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 No? Io ho sentito Dormi Una roba del genere Era Era lui Di reprensibile Ti ha dato la buonanotte Alla faccia del cazzo Ma com'è arrivato? Senti eh Ce ne occupiamo dopo Non so come cazzo sia possibile che ci sia un cubo d'acqua Sulla Sulle scale Ma non è importante Allora di qua Era di qua Non serve mangiare adesso Oh Eccoci qua Eccoci qua Sì Non c'è altra lava sotto Quanto cazzo ci vuole a romperla Ma ho un piccone di diamanti Ma sta funzionando o finisce che la rompa a vuoto Ah no Ok Eh no Eh no Eh no Muoviti Non mi piace Quante ne devo prendere? Non lo so Minchia ma ci metto mezz'ora ragazzi Faccio in tempo a morire di fa Ah 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 Quattordici Otto se li usi bene Minchia Siamo a uno Due Due Tre 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 Quindi l'acqua perché si trasforma La lava perché si trasforma in ossidiana Deve essere colpita dall'acqua In un modo preciso Stronzata Stronzata Quattro Però a parte del portale era Parte del portale era già completato Eh In realtà Ne bastano cinque Per sicurezza sei dai Per sicurezza sei Ora è che poi devo farmi un acciarino per accenderlo Sto cazzo di Eh Eh O posso usare la torcia E fuoco d'altronde Ma io che cazzo ne so Venti Ne bastano otto Decidetevi Dai muoviti 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 Avanti Ok Boh Sette Ora Torniamo al lago Al fiume Da casa E Dobbiamo ripercorrere il fiume per cercare Non ho stamina Qua c'erano dei polli mi ricordo Non ce n'è altro polletto da qualche parte Forse devo tenerli in vita uno Per evitare Sti cazzi Sti cazzi Sti cazzi Però conciato così Non so se abbia senso andare lì Sto per morire di fame ragazzi Dino fanne otto o dieci E ormai è andata Che cazzo è st'affare Scusa cosa diavolo sei tu Ma hai in bocca un osso Oddio che è Che cazzo vuoi Che sei Lasciami Che diavolo vuoi Aiuto Ma cos'è Ma per favore aiutate Ma che cazzo è ragazzi Ma che diavolo è Killer knife Ma perché c'ha un No 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 Basta Ho già dato No Ho già dato Mi dispiace Mi dispiace No Mi dispiace Mi dispiace Non ci riesco Non ce la faccio Mi dispiace Va Ma va Allora 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 Quell'acqua si tramuterà In ghiaccio Suppongo La metterò Oh cazzo Credo di aver fatto Un errore enorme No Sto per urlare Togliti dalle mani Ok 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 Sta andando tutto bene Sta andando tutto bene Allora C'è un assassino A quanto pare O meglio C'era un assassino L'ho assassinato io Quindi Cosa sono io A sto punto L'assassino Dell'assassino Ok E Chi se ne frega Facciamo finta di niente Ora io devo mangiare qua E sta roba non cresce Quindi Direi che la cosa più sensata da fare È volare qua il piccone E andare a prendere E anche i secchi d'acqua E tutte queste cacate qua Compresa anche la nostra bella ossidiana E armati di tutto punto Andrei a prendere Un pochino di Farina d'osso Da qualche parte ci sarà un cazzo di scheletro No Ci sarà uno scheletro da qualche parte qui E che cazzo Li trovo sempre Madonna mia Sti suoni Devastanti Mi prendo la farina d'osso Ed è fatta È fatta Procediamo per di qua Guarda adesso lo trovo Adesso lo trovo Dio mio Dio mio Ah È buio pesto Ma porca puttana Ma qua si va giù a bestia Eh no Ok più o meno Ma non è quello che stavo Mi sarei aspettato Eh madonna Ma che buio Va a cagare Da qualche parte troverò uno scheletro Uno piccolino Che mi dà due ossa in croce No qua non sembra esserci niente Quanti cazzo siete? Oh Ma ti cazzo siete? Fermi No Boni eh No 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 Che schifo le larve Tio Ma le posso mangiare? Cibo Questo è cibo ragazzi Sto mangiando letteralmente proteine È fatta È fatta È fatta Stiamo imparando Stiamo imparando Stiamo imparando Perfetto Perfetto La conoscenza è tutta La conoscenza è successo ragazzi Allora io qua sotto A parte una morte certa Oh Ti ho sentito? Dove sei bastardello? Avanti Vieni fuori Dove sei? Dai che ti ho sentito Scheletro Vieni fuori Eccolo lì È lui? Eccolo lì Bastardo Eccoti qua È senza arco Poverino È minorato Urkukan Tutto bene? Non mi ha dato l'osso Sì Sì Me l'ha dato 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 Non lo so, non lo so, zitti, 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 Dio mio, Dio mio, ok, 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 diamante, ma che, c'è altro diamante, che sta succedendo, per quale lo scomotivo ci siamo, ma quanto cazzo, cazzo di diamante c'è qui, non ha molto senso che ci sia del diamante però qua, non è, non è, non ha molto senso, l'avevo detto, ma non è vero, torno a casa, è certo, è per forza, Ok, il problema è capire dov'è casa, di qua, piano, il mio piede, la mia capiglia, ok, ok, sì, 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 minor moon has appeared, è una luna, ma che cazzo è? E vaffanculo, buono Adesso Cave Dweller di nuovo Ora Ad esempio, in questo momento, sto coso qua di grano, è pronto? È fatto? È finito? Sì, lo so che sono le 23, Andrea, ma devo concludere prima qua, perché sennò impazzisco Ditemi se è pronto questo grano, perché non riesco a distinguere se sia pronto, no, come sì? Adesso sì, ok, e questo per voi è giallo? Mi dispiace Eh, ma minchia Ok, ok Bene, molto bene, molto bene Bene, molto bene Abbiamo un altro tocco di pane Meglio di niente Meglio di niente È tristissimo tutto ciò Sti cazzi Ragazzi, lo continueremo la prossima volta, stiamo andando alla grande Stiamo andando alla grande Ce la stiamo facendo Mi sento abbastanza positivo Pian piano, pian piano Stiamo trasformando la nostra situazione in qualcosa di sedentario E ci possiamo riuscire Quindi, a voi su TikTok Ciao Se volete venite qua su Twitch E niente, continuiamo le quattro chiacchiere E ci rilassiamo Abbiamo fatto di meno questa volta Perché abbiamo fatto un po' meno Diciamo Non è successo molto Però Quello che è successo è stato prezioso Quindi mi fa piacere Aspetta che chiudo qua A posto Sì, finisci sta minchia di live Così Non mi interessa della classifica degli spettatori Chiudi Non mi interessa Che spavento Che spavento Ma non mi interessa delle informazioni analitiche Mi devi chiudere sta cazzo di schermata Ma perché? Ma perché? Ma perché? Oh Bon Musica Fatemi rilassare Tio Bono Allora Domani ragazzi C'è all'incirca Una specie di sorpresa Dovremo fare una live Con il nostro amato Andrea del 1988 Incredibile Incredibile Quindi siateci perché O cazzeggiamo E Non so esattamente a cosa giochiamo Scusate Oppure facciamo reaction e cagate simili Quindi ci si diverte E ci si rilassa Notte di non voi bestiaccia È stato un piacere Ciao 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 Però prima Quindi detto ciò Domani siateci Poi venerdì continuiamo L'horror night come al solito Prima volevo fare vedere Un pezzo di gameplay Un gameplay trailer Di un minuto e ventitré Di un gioco che si chiama In the dead Our darkness day Gameplay teaser Quest'ultima parte Non fa parte del titolo Che è un giochino Che sta per uscire Molto carino Oddio giochino A me sembra proprio un giocone È un gioco sugli zombie E la sopravvivenza Guardate Cos'è che è Dino Ti ho fatto una skin per Minecraft Se vuoi ti iscrivo su Discord A te E te la mando Grazie grazie bestiaccia Grazie Me l'hanno già fatta eh Me l'hanno già fatta Però Però Non è uscito un nuovo gioco della Chilas Dopo guardiamo Chiara Guardate Piccoc Piccoc Tratto da una storia verosimile A parte la grafica che mi piace un casino Dovrebbe essere la storia di questi sopravvissuti Che un po' alla This War of Mine Concettualmente È un survival horror con gli zombie E sembra essere veramente tanto figo Quindi non vedo l'ora di provarlo Ora non so come sia possibile che degli zombie possano Decimare Il genere umano Dal momento in cui sono deficienti che camminano piano Che bello Ebbene Certo che si tira un pugno a vuoto Oddio Un sceriffo no? Perché il ciccio muore? Non è giusto Era quello con più chance teoricamente Our Darkest Day Tra l'altro c'è sto stile anni 70 che mi garba parecchio Quindi ragazzi Non vedo l'ora Wishlist now on Steam Ah ma Into the Dead Aspetta che lo metto su Vediamo un attimino Perché magari c'è anche scritta la data d'uscita Non credo Però vediamo Ragazzi Io lo dico Quest'anno L'unica cosa che mi mantiene in alto lo spirito Ah già nella lista desideri L'ho già messo nella lista desideri Perfetto L'unica roba che mi mantiene alto lo spirito A livello gaming Mi dispiace ma non sono i AAA Sono i giochi indie Il 18 aprile deve uscire sto cazzo di No Rest for the Wicked Che sembra essere uno dei giochi più fighi Che sia mai uscito sulla fascia della terra GDR Quei controcoglioni Fatto dagli stessi creatori di Ori and the Blind Forest E adesso anche questo Abbiamo avuto Enshrouded Abbiamo avuto Il simile pokemon lì Come cazzo si chiama Abbiamo avuto di tutto E poi ci sono stati i giochi AAA E purtroppo i AAA A meno a me hanno fatto cacare uno dopo l'altro Palward Sì Palward Mi dispiace ma Cioè Sì i AAA sono un po' bo E' partita una diatriba anche sul nuovo gioco della Della Sony Quello lì Dei samurai Running Running Station Non si chiama così Attenzione Rise of the Ronin Ma ragazzi ma che merda Ma che merda E' uno spettacolo E' un'opera d'arte No Non c'è nulla che mi spinge a giocare a quel gioco lì Nulla Non c'è niente che mi spinga a giocare Soprattutto lato tecnico Io Non è tanto la grafica ragazzi Perché non è quello il problema Fino a una certa Fino a una certa Ma questi sono i creatori che hanno fatto Neo Neo Il Divers 2 Sì il Divers 2 Ecco il Divers 2 è l'unico Neo Però vabbè Voglio dire Quando esce Black Meek Wukong lo porteresti Certo Sì sì Dovrebbe uscire anche un nuovo gioco Sempre sugli zombie È italiano Si chiama City 20 Ah City Skyline 2 lo riporti Sì ragazzi Allora adesso Ecco Vi spiego un pochino Ci stiamo in questo momento Crogiolando con le Horror Night Ma Lo stiamo facendo Perché non c'è molto da portare In questo periodo Quindi stiamo Facendo subentrare le Horror Night Con prepotenza Però Tra Io direi tra due o tre settimane Si ritorna Alla Alla Classica Programmazione Canonica Quindi Tre volte Horror Night Due volte Giochi Giochi a caso Che possono essere co-op O Giochi indie Dipende Dipende tutto da quanto è bello Non rest for the wicked Perché se quello è veramente figo Mi sa che già Ma è che Parliamo del Del 18 aprile Quindi ce n'è di tempo Però Come vi dicevo Anche perché non mi posso far venire un infarto Sinceramente Credo che le Horror Night Le continuiamo a fare Ma Con la frequenza di prima Non di adesso Perché adesso Veramente sono due settimane Tre Che Che ci sto dando dentro E Mi va bene Mi piace Però Mi rendo conto che non è sostenibile Una roba del genere Vieno Fai vedere il gioco di questo gioco indie? Quale? Ah si Non rest for the E l'abbiamo fatto vedere l'altro Vabbè Ve lo rifaccio rivedere Mi fa piacere Tanto Ve lo voglio anche regalare Quindi siateci No rest for the wicked Gameplay Tre Allora Questo qua è di 8 minuti Addirittura Boss fight esclusiva del gioco È un gioco che punta Appena Sta cazzo di pubblicità Se ne va È un gioco Ve lo faccio vedere È un gioco che punta Monto lato tecnico Anche Proprio per quanto riguarda Il combattimento Anche se ovviamente La prima roba che impatta Gli occhi È il comparto grafico Perché artistico Più che altro Perché è tutto disegnato A mano Godetevelo IGN first Faccio un richiamo fortissimo I giochi della From Io dico Fatemi abbassare il volume di storo Incoglionito Senza Ovviamente senza offesa Sembra una trombetta Quando parla Guardate Anche già soltanto La pioggia C'è Proprio D'impatto Così Gli effetti atmosferici Se voi avete visto Durante il combattimento Ogni singolo Movimento Del Del nemici Del boss Del nostro personaggio Fa degli schizzi Diversi d'acqua Ed è tutto fatto Cristo a mano Guardate Guardate sta scena qui Cioè è fuori di testa Io non so se il mio computer Che ha una 4080 Regge sta roba È fuori di testa Solo questo Sembra un dipinto ad olio Il gioco Puoi scegliere Il tuo pupazzo Puoi scegliere Che tipo di Potenziamenti Di armatura Mettergli Ora Deve piacere La visuale In isometrica Deve piacere A me piace Io l'adoro È una delle mie Scelte Di camera Diciamo che preferisco Però È uno stile mio Nel senso Potrebbe far cagare ad altri Il gioco sarà Completamente esplorabile Non ho capito Se sia un souls like Ma credo di no Credo sia proprio Più un gdr Classico Alla the witcher Per dire Quindi Non è che crepi Devi andare a riprenderti Le tue robe Ma semplicemente crepi Però non voglio dire Puttanate Non ne ho idea Quindi Ci sono come vedete Nei ambientali Qui c'è una Una boss battle Fa vedere una boss fight È in italiano Penso di sì 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 Usirà anche in italiano Usirà completamente In italiano In tutte le lingue Ragazzi Ma io so Che tu stai aspettando Di giocarlo In cinese Semplificato Attenzione Una porta che non porta È gioco dell'anno God of War In terza persona Quindi vuoi dire God of War Perché i primi God of War Erano in terza persona Ma cosa intendi Ad esempio La cosa che mi colpisce È il fatto che Se In questo caso Vedete che lì c'è Quel punto Dove lui Penso voglia arrivare Ed è lì che Arriverà Minchia È stato un corvo Guarda Andiamo direttamente Alla boss fight Perché qua Non c'è Granché da vedere Nel senso che Sono più o meno Sempre le stesse 3-4 cose In croce Dove cazzo Parte la boss fight Questi chi sono NPC o gente Che può trovare a caso Vediamo Perché so che C'è la possibilità Di Ci sono eventi casuali Tra cui anche il clima Gli eventi climatici Atmosferici A caso Puoi beccarti la tempesta Di neve Di pioggia Ma mi sa che sono Degli NPC Lara Perdona mio padre Lasci che tua figlia Parli per te Vecchio Scusate Scusate Ma è videoludico No no Dax Ma è online pure Ma è una fetta di culo Anche la gradite Ragazzi è un gioco Single player Quindi è un gioco Bello per forza Ma io volevo Vedere la boss fight Dove cazzo è Sta boss fight Qua Possibile Ma vacca Ma io lo sapevo Che finiva così Scusatemi Scusatemi Lo sapevo che finiva Dio bono Simile a gauntlet Sì per la visuale Però Credo si possa personalizzare Lomino Sì Ti puoi fare il pupazzo O credo che il personaggio Sia fisso E sia un pelato Con la barba Non sto scherzando Di conseguenza Ripeto ancora Gioco dell'anno Eccolo qua Questa è la boss fight Che abbiamo visto prima Non potevano farci vedere Direttamente sto pezzo No Da stronzi proprio Bene Where is the thorn Inchia Gesù Già metà vita è partita Tanto Non capisco Se ci sia Lock automatico O no Ma sta già morendo male Perdonami Ma come vestito il protagonista Si sta parando O no Pozione Attenzione Sì no È personalizzabile Il pupazzo Perché ad esempio Qua in alto Vedo che c'è Lomino E qua è un Possente afroamericano Mentre nel primo Nell'altro gameplay Che avevo visto Era un caucasico Bianco Cattivo Ovviamente Villan Eterocis Bastardo Stronzo dentro Inside Proprio Un craccomane Di quelli che Diventa violento Il sabato sera Il tipo è un po' scarsino Beh sì ragazzi È gente Lo sapete Come funziona Quando giocano i giornalisti Ma cazzo Non si sposta nemmeno Belli anche Le animazioni Madonna Ha ruttato Quante pozioni ha Sta barando Ne ha ancora due Secondo me Si crepe Ma lo colpisci Cioè vediamo Che è proprio Mi sa Molto più So slack Del previsto Me l'aspettavo Più di staccato Invece no Ci sta Comunque Quante zampe Astor Quattro Bene È un po' difficile Per non riuscire A prevedere Che ti sta per attaccare Voglio dire È enorme però Il Perry Meccanica di Perry Esiste Penso di sì Perché forse L'avevo visto Nell'altro gameplay Di 18 minuti Ho avuto 18 minuti Da buttare Feriscilo Dai che è morto Dai Dai che ce la fai Che cazzo Gli ha fatto Non lo sta prendendo Mai Non lo so Prima ha fatto Il Perry Ah non l'ho neanche visto Ah puoi collezionare L'Utta Attenzione Ma puoi scegliere Tra questi No Puoi pigliarlo su tutto Un femore Buono Ah sì Le ho date tutte e tre Corpse Smeral Blade Hunter Knife E poi dell'Artemisia Erba Così a caso Da raccogliere Buono buono Vabbè ragazzi Sostanzialmente Questo giochino Che sta per uscire Sono stracurioso Di provarlo E anche capire Un po' Com'è la storia Ovviamente deve piacere Sì è chiaro Deve piacere Deve piacere Il genere Io sono già arrapito Quindi non vedo l'ora Che cicci fuori Anche perché dopo Baldur's Gate Aspettavo qualcosa Di GDR Ma action È arrivato Dragon's Dogma Ma purtroppo Non mi ha preso Ragazzi Quindi sinceramente Adesso le mie speranze Ricadono su Questo non resta For the Però Bisogna vedere Perché potrebbe essere Una cacata Potrebbe essere una cacata Ma quelli che hanno fatto Ori Sanno fare i giochi Perché sono Ori Ori and the Will of the Wisp E in the Blind Forest Sono due giochi Metroidvania Che mi sono piaciuti molto Soprattutto per la loro semplicità E al di là Del dato estetico Che adesso è qualcosa Di wow Musica Dragon's Dogma 2 Noiosetto Ma ci sarai tu Noiosetto Aia Non è che Non è tanto Il fatto che sia noioso Andrea Io credo sia Che è proprio Un gioco sbilanciato Vecchio nelle meccaniche Non porta nulla Di nuovo sul mercato E io non lo definirei Neanche Dragon's Dogma 2 Perché sembra un remake Cioè non c'è Letteramente nulla di nuovo Rispetto al primo capitolo Di dieci anni fa Solo che qua Si spendono 80 euro Per avere Sostanzialmente Lo stesso gioco In full HD Anche se I giochi La grafica va Il gioco di per sé Non regge neanche I 30 fps Sul console Quindi è ridicolo E L'unica roba In più Che hanno messo È questa Diciamo Intelligenza artificiale Spinta Ma se tu Se tu togli quello Il gioco Per me Non lo so Mi siamo un po' Una cagata Dino se è piemontese Sì sì Mi piace la menta Cosa ne pensi Di Regolas Beh Alla fine È diventato amico Di un nano Quindi Al mio rispetto Anche se Gli affili odio Ma i 30 fps Ragazzi Non mi incavolo Perché va a 30 fps Quello sti cazzi Mi incavolo Che costo 80 euro Va a 30 fps O meglio Cerca di raggiungere 30 fps Su console Beh Questa è la cosa Pericolosa Secondo me E Non ha un motivo Per andare così male Cioè Il fatto è questo Che Non è così Graficato Da dire Capisco Che va da 30 fps Chiunque gioca A Dragos Dogma Soprattutto su console Potrà confermare Con me Che il mondo di gioco È vuoto Non c'è Niente Le città Sono quattro mura Con quattro stronzi Che camminano Per la città Basta È che proprio Il motore di gioco Che è La grafica di gioco Che è molto pesante Perché è il Resident Evil L'Engine E non c'è E non capisco Neanche per quale motivo Giri così male Perché se poi vai a vedere Resident Evil Il cazzo È un'altra roba E arriva fino a 60 fps Quindi è proprio Un gioco Studiato male Concluso a metà Sì poi tra l'altro Ci sono È vero Ci sono sempre Gli stessi mostri Il minotauro L'orco Il ciclope E anche La chimera E basta Hai finito Dragon's Dogma Queste sono le uniche Cinque creature Che troverai nel gioco Per il resto ci sono Lupi Zombie Scheletri E le solite cagate Da GDR Quindi anche lì No Le pedine non fanno Quello che vogliono In realtà E penso che siano studiate Sono studiate molto meglio Rispetto all'altro Abbiamo già visto L'abbiamo già visto Harold Halibut È una figata Non vedo l'ora che esca Grassi comunque Anche quello Un altro gioco indie Che sto aspettando Ho fatto tutto quanto In motion capture Il grifone Sì sì C'è anche il grifone È vero Visto il gioco Che stanno facendo Di Leone Cane Fiffone Non è un gioco Purtroppo È una È un È un gioco Cioè È Dreams Su Playstation 4 Non è un gioco Quindi Ci hanno fregati Purtroppo non si può giocare Se non hai Dreams Quella roba lì Ma poi non è un gioco Horror Sì sì È un reboot Pigro del primo Quindi Insomma E il boi Il gioco Non l'ho ancora preso Però l'hanno devastato Nei commenti Non è che si è piaciuto Tanto Quindi Non lo so Non è più giochi Horror Eh No In tasca Adesso non ce ne ho Devo andare al tabaccaio Torno subito Poco testa anche Banalmente Anche i Battle Royale Tecnicamente Parlando Fanno cacare Sì bene Ma capisci poi Che adesso Per dire Che gioco deve uscire A breve Il gioco della Marvel Marvel Come cazzo si chiama Non me lo ricordo Rises Che è un Overwatch Con i giochi Cioè Capisci che Le Measure Non si sforzano più Perché Se fanno qualcosa Di diverso C'è il problema C'è il rischio Che la gente Non glielo compri Perché è diverso E non piace E bla 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 Quindi si attengono Più o meno A un filone di moda Che è quello canonico Quindi fanno Il gioco Che tira Un esempio classico È la Ubisoft La Ubisoft Va a fare qualcosa Di un pelo fuori Dall'ordinario Come è stato L'ultimo Come cazzo si chiama Prince of Persia E non se l'è cagato nessuno Perché? Perché non era Prince of Persia Così come ce lo siamo immaginati Ma era un Metroidvania In visuale In 2D Tra virgolette In 2,5D Metroidvania Quindi Capisci che è una roba Molto di nicchia Però hanno avuto Il coraggio di farlo E secondo me Lì era da premiare Bethesda E scusate Ubisoft Poi dopo vanno a fare Sempre gli stessi Tre cazzo di giochi Perché sai che vendono School and Bone Si ha fatto cagare la nicchia Quindi si meritano Tutta la merda Che si stanno prendendo Però generalmente Cicciano fuori Sempre gli stessi titoli E le case di sviluppo Ormai vanno sul sicuro Parlo delle major Vanno sul sicuro Per evitare di perdere i soldi Mentre gli studi indipendenti No Perché alla fine Hanno un budget ridotto Tu speri che funzioni Il gioco Lo fai ovviamente Con un certo impegno Però sono i tuoi soldi Capito Non hai azionisti Dietro che rompono i coglioni Che spingono l'uscita Non c'è Non c'è nulla di E sono giochi brevi Veloci Intensi Che ti piacciono Per la quale tu non nutri Neanche tutto questo grande hype Nei speranze Perché sai che è un gioco indipendente E poi alla fine lo giochi E ti piace E questa è la cosa bella dell'indie Che tu puoi spendere 10 euro Trovarti per le mani Un gioco di merda Ma tanto hai speso 10 euro Oppure ti puoi trovare qualcuno Che si è fatto un culo tanto E ti ha fatto un'opera d'arte Diventa Diventa magari Lo studio poi cresce Diventa proprio Un vero e proprio studio Videoludico E poi Nesce il primo Secondo Terzo capitolo Di quella saga lì E questo è il bello degli indie È un mercato potenzialmente Che riesce ad atticchire Cioè riesce ad atticchire Perché è qualcosa di fertile Mentre Le measure Purtroppo Ormai Sono stagne lì Anche Sony A me dispiace dirlo Ma si sta Si sta appoggiando sugli errori Si è appoggiato il culo per terra Ha fatto I suoi tripla Della Madonna In questo ultimo anno Penultimo anno Perché quest'anno Non uscirà un cazzo Fino al 2025 E adesso Si lamentano Che Rise of Ronin Non ha venduto una micchia Ma secondo te Gli hai fatto zero pubblicità L'hai fatto uscire Praticamente Allo stesso giorno Di Dragon's Dogma Cioè Non ci credevano manco loro Quando l'hanno fatto Sto titolo Capisci Non ci credevano manco loro È una sorta di copia e colla Di Ghost of Tsushima Uscito male Fatto dagli sviluppatori Di Nioh E sembra un gioco Di dieci anni fa Cioè Vedo roba letteralmente Indipendente Su Steam Che Anche solo visivamente Ti piace Di più E dici Cazzo Wow E l'ha fatto uno stronzo Solo nel seminterrato Di casa sua In Ucraina Quindi dico Come cazzo è possibile Cioè Stanno sbagliando tutto Stanno sbagliando tutto Live action di Avatar Live action di Avatar È il film Rise of Ronin Buttato nella spazzatura Per colpa di Sony Ma da Sony Ma è un gioco di merda Basta Dai su Su Puzzava Puzzava C'è già dei trailer Puzzava proprio di merda Non è colpa della Sony È che è proprio È proprio un gioco Che non andava Ma è svenduto Come esclusiva Non valeva L'esclusività Non c'è Ah Avatar The Last Airbender Ah sì Serie tv Che stai vedendo In questo periodo Ma un cazzo ragazzi Sto guardando film Più che altro Di serie tv Non ne sto guardando Molto Cioè con la vale Perché me lo voleva far vedere Ma così per cazzeggiare Guardiamo ogni tanto Modern Family Solo che io Mi dispiace Ma sono troppo Poco modern Sono troppo Poco family Quindi sono più legato Concettualmente Ai vecchi Cavalli di battaglia Che erano le sitcom No di una volta Quindi per me La vita secondo Jim È l'unica guida E Notria E Notria Chi se ne frega Cioè Con tutto Il più grande rispetto Che posso avere Per questi sviluppatori Di cui non so Una bene amata ceppa Con tutto il rispetto Che posso avere Per queste persone Che hanno anche Utilizzato la figura Come Sabaku Massimo esponente Del mondo From software Che gli ha consigliato Alcune dinamiche Di gameplay Per la realizzazione Di questo gioco Sinceramente Ogni volta che vedo Il loro trailer Dico Chi se ne frega Non mi dice niente Non ha assolutamente Non mi dà Assolutamente Alcun motivo Per giocarlo Perché? Perché è un normale Gioco che scoppiazza Da Dark Souls Cioè cerca di essere Dark Souls A me sinceramente Dark Souls in Puglia A me sinceramente Non me ne frega Una ceppa C'è Non me ne frega Una ceppa Ma proprio zero Ma io come? Non dai forse carino? Ma io ho visto il trailer A me sembra La solita solfa Sinceramente Però vabbè Hai speso 120-500k Canali Come hai fatto? Mi sto facendo La maratona Di Grey's Anatomy Con mia figlia Minchia Solo che lei Non è capace A fare le maratone Dopo un po' Aggiunge altro Beh c'è ci sta Minchia Grey's Anatomy Un po' tostarello Non mi piacciono i dottori A parte Scrubbs Secondo me A parte Aspetta 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 Sono già a 34 Ragazzi Adesso chiudo Secondo me Dato che quest'anno Usciranno pochi AAA Molti indie Tra cui Little Nightmare 3 Diventeranno un po' Più conosciuti Beh Little Nightmare 3 Non è un indie Non è un indie Little Nightmare 3 Anche quello Non vedo l'ora che esca Però capisci che È Little Nightmare 3 Cioè è un seguito Quindi Sarà bello per forza Basta che mantiene Il solito gameplay Alla fine Tutto il mondo Che c'è dietro E la narrazione Nascosta La lore Che fanno Little Nightmares E beh Poi il fatto che Sarà finalmente Cooperativa locale Dato che gli fa indie Si impegna Eh sì sì Però Concettualmente sì Sto guardando Il Trono di Spade La nuova serie Shugun Io la nuova serie Shugun Ah quella su Disney Plus Sì Con Con il 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 Giapo Che aveva fatto Anche il ruolo di Se non sbaglio Sai che non mi ricordo più Quei film era Ma era quello di Nolan Mi sa Inception Dove diceva Dove diceva Eravamo giovani Insieme Sì sì Lui Lui Credo sia lui Non lo so Little Nightmares Per cellulare Lo porteresti No Shugun Ha episodi Che durano troppo Però un'ora e mezza Puntata Anche no Cosa A posto Bestiacci fate bravi Fate buoni Noi ci vediamo domani Alle 21 e 30 Probabilmente ci sarà Il nostro caro Andrea del 1988 Insieme ovviamente Al nostro maestro Quindi siateci Io la chiudo qua Che devo portare fuori i cani Grazie mille Per aver passato con noi Quest'altra meravigliosa Serata in compagnia Ora Minecraft Probabilmente lo stoppiamo Per un pochino Riprenderà poi A sto punto Settimana prossima E venerdì invece Ci facciamo una serata Itchio In relax Sempre horror Ma Insomma Finiamo Zonomoli E giochiamo A qualche giochino indie Così A cazzo Va bene Io vi aspetto Domani alle 21 e 30 Domani ci rilassiamo Sia chiaro Quindi Non immaginatevi Chissà che Niente horror Niente di complesso Semplicemente Ci mettiamo lì con Andrea 1988 Cazzeggiamo Reactiamo Parliamo del più E del meno E facciamo un po' salotto Facciamo un po' salotto Vi voglio bene Bestiace Grazie per tutto Su Instagram Non so se lo sapete Ho pubblicato Una storiella Solo per voi Andate a vedervela Che sono dei ringraziamenti Sentitissimi Da parte mia E ovviamente Anche del maestro Non sto qua a ripeterli Perché sennò Divento troppo Smielato E Buonanotte Fate i bravi Fate i buoni Dormiteci su Dormiteci su E pensateci bene Riflettete molto A quello che avete detto Stamattina Che non mi siete piaciuti tanto Eh però vabbè Un abbraccio Comunque un abbraccio